Il parere è favorevole, il 63.54, il parere è contrario, il 63.53, il parere è contrario, il 63.57, il parere è contrario. D'accordo, grazie. Il Parere è conforme al relatore. Va bene, allora, pongo in votazione il 63.100, i pareri sono favorevoli, dichiaro aperta la votazione. Dall'osso. Allora, hanno votato tutti. La votazione è chiusa. Favorevoli 300, contrari 12, la Camera approva. E allora, con l'approvazione di questo emendamento, sono preclusi il 63.56, il 63.54 e il 63.53. Quindi, allora, adesso pongo in votazione il 63.57, su cui i pareri sono contrari. Dichiaro aperta la votazione. Martelli. 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 Buonafede. 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 Allora, tutti hanno votato? Ci siamo? No? Sì, ha votato. Bene. Dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli 39, contrari 320, la Camera respinge. Ora pongo in votazione l'articolo 63. Dichiaro aperta la votazione. Allora, tutti hanno votato. Fessi Giacomo.